Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del tagliasiepi a batteria Eco di HCS 2800, ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il tagliasiepi a batteria Eco di HCS 2800 rappresenta un'eccellenza nel campo degli attrezzi professionali, mirato agli utenti che richiedono prestazioni superiori e affidabilità senza compromessi. Con un peso di soli 3,9 kg con batteria e una lama lunga ben 71 cm, si posiziona tra i più leggeri e maneggevoli tagliasiepi professionali disponibili sul mercato. Questo risultato è ottenuto grazie alla configurazione dei denti di taglio su un solo lato, che non solo riduce il peso complessivo ma migliora anche l'equilibrio durante l'uso. Le caratteristiche di livello professionale includono un sistema di ingrassaggio per una manutenzione agevolata, una trasmissione interamente realizzata in metallo per una durata eccezionale e lame affilate al laser triple su un binario in alluminio di qualità aerospaziale. Il motore brevettato combinazione velocità e coppia, garantendo una versatilità superiore. Carter ingranaggi in lega di magnesio, lame giapponesi affilate al laser triple e binario principale in alluminio aerospaziale, assicurando robustezza e prestazioni ottimali nel tempo. Il comfort durante l'utilizzo è migliorato grazie alle impugnature inclinate e al sistema di raffreddamento attivo, mentre il collettore di foglie integrato mantiene pulita l'area di lavoro, contribuendo a un'esperienza di utilizzo efficiente e senza interruzioni. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.